I comuni della zona industriale condivisa Cicerale, Ogliastro Cilento, Agropoli e Capaccio Pestum si uniscono in un no collettivo alla richiesta della MGM per la creazione di un impianto di smaltimento di pneumatici, località terzerie di Cicerale. La MGM di Battipaia alcune settimane fa era stata devastata dall'incendio del suo stabilimento. Nella giornata di ieri i sindaci dell'Unione Comuni Alto Cilento si sono incontrati per confermare la contrarietà alla creazione dell'impianto e per dare sostegno al sindaco di Cicerale, Gerardo Antelmo. Ora la nota azienda Battipaiese incassa un altro duro colpo con questo no. Lo scopo era quello di smaltire 171.000 tonnellate di rifiuti non pericolosi che per ovvi motivi non sono desiderati da nessuno nel Cilento. Il primo a schierarsi contro quest'impianto è stato proprio il sindaco di Cicerale, Gerardo Antelmo, il quale ha subito voluto difendere l'area industriale, considerata come un fiore all'occhiello della regione e gli oltre 2.000 posti di lavoro che offre. Una presa di posizione chiarissima quella del primo cittadino Antelmo che vuole salvaguardare l'economia e la natura di una terra che offre tantissimo al Cilento.